Cosa che quando non c'era la tecnologia si svolgeva durante tutto l'arco della giornata. Praticamente noi finivamo la sera alle 19 di cuocere e adesso alle 1 all'ora di pranzo abbiamo già fatto tutto il lavoro. Questo è grazie alla tecnologia. All'interno dei locali, diciamo Toscana o Limitrofi. L'esempio lo fa il Vinsanto che lo produce in un'azienda di qui, del Valdarno. La farina viene da vicino Toscana, dall'Umbria. Certamente la tecnologia ci ha dato un grosso contributo riguardo anche ai tempi. Un occhio alla nostra prerogativa che è quella dell'artigianato vero e proprio, nel vero senso della parola.